L'Istituto Agrario Lotti Umberto I di Andria è lo scenario più giusto per accogliere un convegno tecnico sulle problematiche riferibili alle criticità ancora riscontrate nell'export dell'olio d'oliva pugliese. Tabelle, statistiche, dati ed azioni pratiche per difendere l'oro verde della terra specialmente in un momento in cui l'olio d'oliva made in Italy è continuamente sotto attacco. Bisogna cercare di incidere moltissimo sui ricoltori, su chiunque utilizzano questi prodotti ma anche su rivenditori e chi consiglia di sospendere i trattamenti con Corpirifos perché sono assolutamente vietati sull'olivo e quindi di non utilizzarli nel modo più assoluto. Il Corpirifos è un prodotto che si lega moltissimo all'olio e perciò abbiamo questo problema. Una corretta gestione dell'uso del prodotto anche su altre culture senza determinare derive o limitandolo magari a un periodo quale può essere il 30 giugno può sicuramente contribuire a migliorare fortissimo questo aspetto della residualità dell'olio del Corpirifos. L'evento è stato organizzato dalla provincia di Barletta Andriatrani e dal comune di Andri in collaborazione con l'Arptra ed ha potuto contare su di una buona partecipazione di produttori ed addetti del settore riuniti proprio per comprendere meglio e confrontarsi sul tema dell'utilizzo di fitofarmaci alla luce anche delle normative della qualità del prodotto. È un tema anche legato alla sensibilizzazione e alla consapevolezza che noi vorremmo far acquisire nei nostri produttori e olivicoltori per capire la valenza dell'utilizzazione di un prodotto rispetto ad un altro. Il problema è capire cosa dobbiamo usare e quando lo dobbiamo usare. In questo caso parliamo di olio e l'olio è un prodotto sensibile, un prodotto di cui il nostro territorio ha una grande importanza dal punto di vista commerciale, dal punto di vista produttivo ma anche socio-economico. Quindi a questo punto è necessario che i nostri olivicoltori, i nostri rivenditori anche di prodotti fitosanitari siano messi nelle condizioni di poter intervenire e agire in maniera consapevole perché credo che l'attenzione sia proprio quella di limitare l'utilizzo di determinati prodotti come per esempio il clorpirifos che purtroppo incide negativamente sulla qualità e sulla salubrità dell'olio.